Quanto sarebbe bello se le persone disabili avessero la possibilità di fare un'esperienza o di fare carriera nel campo della moda. Ma purtroppo non è così semplice. Dobbiamo sempre scontrarci con la dura realtà, con i pregiudizi e spesso urlare per farci ascoltare, ma a volte qualcosa di grande può accadere. Vi racconto la mia esperienza. Un po' per gioco, un po' per esigenza di abbattere stereotipi, ho deciso di iscrivermi presso un'agenzia di moda che era in linea con i miei ideali. Inaspettatamente sono stata invitata a conoscere tale realtà. Mi hanno accolta a braccia aperte e mi hanno spronata a fare sempre di più. Con loro ho avuto l'opportunità di sfilare in passerella in ambito da sposa. Questa esperienza è stata come un sogno, è stata la rottura di moltissime barriere personali e culturali e sarò sempre grata per aver avuto l'opportunità di far parte di questo piccolo cambiamento, perché noi valiamo e non meritiamo di stare al buio. Grazie per la visione!